Obiettivo, mettere in sicurezza tutti gli over 80. La data da assegnare sul calendario è quella di sabato 17 aprile, giorno nel quale l'ULS2 della marca ha fissato il nuovo Vax Day. Tutti i nati dal 41 in giù che non abbiano ancora ricevuto la prima dose e che non abbiano un appuntamento già fissato, riceveranno il vaccino presentandosi alle sedi vaccinali della propria area di residenza. Non serve la prenotazione. Saranno chiamati dei comuni come abbiamo già fatto altre volte, potranno venire ai centri quindi liberamente dalle 8 alle 9 i nati a gennaio, dalle 9 alle 10 i nati a febbraio e così via come abbiamo già fatto l'altra volta per le classi 30-35. Nel caso di marito e moglie, entrambi over 80 ma nati in mesi diversi, potranno recarsi alla vaccinazione insieme nella fascia oraria di uno dei due, presentarsi con tessera sanitaria, elenco dei farmaci assunti, modulo del consenso e scheda di anamnesi scaricabili dal sito dell'ULS, possibilmente già compilati a casa. Risultano ancora da vaccinare nella marca 7.782 ultraottantenni, il 12,6% del totale, mentre il 36,8% ha già fatto anche il richiamo. Tra sabato e domenica cominceranno anche le vaccinazioni domiciliari per gli over 80 non in grado di spostarsi da casa. Le persone che vivono con gli over 80, che sono allettati, che sono a casa, riceveranno una telefonata perché noi arriveremo a domicilio, quindi siamo degli sconosciuti sostanzialmente, per cui sappiate che verremo a domicilio a fare l'iniezione, a fare il vaccino alla persona in modo tale da metterla in sicurezza. L'ULS ha chiesto la collaborazione dei medici di famiglia anticipando di qualche giorno rispetto all'accordo siglato che prevedeva di partire il 20 aprile. Abbiamo le dosi Pfizer, quindi abbiamo un vaccino che va soprattutto per le persone elettate, per le persone che hanno problemi, quindi vorremmo fare questi due o tre giorni in modo tale da arrivare a domicilio e quindi abbiamo chiesto anche il loro coinvolgimento.